Questa sera decreteremo il vincitore e quello che risulterà il gruppo migliore porta a casa la possibilità di venire in radio per un'intervista in esclusiva e chiaramente avendo un demo e una canzone registrata ha anche la possibilità di far ascoltare a tutti i nostri tantissimi ascoltatori Quindi il suggerimento potrebbe essere fatevi il demo tutti così in caso di pericolo è pronto Proseguo con il prossimo gruppo, si chiamano Murder on Monday Un bel omicidio di lunedì Non sappiamo molto di loro, la biografia non è pervenuta Se qualcuno dei membri dei Murder on Monday volesse darci qualche notizia Prese che ho lei Allora Vale, se ti va chiediamo due informazioni Oh assolutamente, la ragazza qui a fianco tu sei? Gemma Gemma, voce? Sì Genere? Rock, poi variamo, facciamo quello che ci piace Variamo cosa vuol dire? Interessante Abbiamo tutti i corsi differenti, allora noi vediamo un po' quello che poi piace a tutti quanti e facciamo Perfetto, in bocca al lupo Mi prendi sulle spalle, ce la fai? Mi prendi sulle spalle, ce la fai? Mi prendi sulle spalle Mi prendi sulle spalle Ok, devo filmare Ok, vabbè, lo stesso Dai, se vuoi per prima calzone Va bene Cappé, cattivo eh? Tornare Perché non vuole per me di un cappello Ah, non vuole per me di un cappello Woman, the wolf mother. You know you're woman, you've got to be woman, I've got to be willing alone, and when you're talking to me, say it right to me, I've got to be willing alone. She's a woman, you know what I mean, you've got to be straight and listen to me, because I stand to breathe. You know you're looking for me, I've got to make you free, I've got to be nobody, you've got to be looking for me, I've got to be willing alone. You know, you know what I mean, you've got to listen and listen to me, because I stand to breathe. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti